E' partito due anni fa dall'idea di OMID, un giovane studente del liceo Pontormo di Empoli, il progetto Mobile Cardiologist che si pone l'obiettivo di digitalizzare i servizi sanitari. Da allora tanta strada è stata fatta. Vediamo il servizio. Un progetto sviluppato da un giovane neanche ventenne e da un suo coetaneo ugandese che si sta facendo conoscere in diverse parti del mondo. Si tratta di Mobile Cardiologist, un progetto che si pone l'obiettivo di digitalizzare i servizi sanitari dal quale nascerà presto un'app. Abbiamo pianificato un lancio di un'applicazione chiamata iDo che crea una community di volontari che connette le emergenze giornaliere del 118 con il cittadino o volontario più vicino alla località di emergenza, così da ridurre i tempi di soccorso. Un'app che si ripropone di velocizzare i soccorsi in caso di incidente è molto utile soprattutto nei luoghi dove i soccorsi impiegano molto tempo ad arrivare a destinazione. Il volontario che si aggira nella città seguendo la sua routine giornaliera riceve notifiche di emergente nel raggio di 2-3 km, così da soccorrere entro 4-5 minuti. Ovviamente questi soccorritori e cittadini sono formati tramite le procedure del BLS. Nelle prossime settimane UMID sarà a Dubai in un summit con vari capi di Stato con l'obiettivo di creare sinergie al fine di allargare la community già esistente. Nei giorni scorsi ci sono stati anche i primi contatti con alcune associazioni di volontariato del territorio. L'obiettivo è ovviamente quello di istituire questo servizio al più presto. Speriamo, grazie ai risultati di questo summit, di lanciarlo entro 6 mesi da febbraio, così da partire almeno in Italia e in altri 4-5 paesi nel mondo e vedere se tramite un test funziona effettivamente.